La Valle Peligna punta sulle cooperative di comunità per rilanciare l'economia e favorire la creazione di posti di lavoro. E dopo Corfinio, Prezza e Pratola se ne comincia a parlare anche a Campo di Giove, dove è previsto un incontro pubblico per domenica alle 17.30 nella sala conferenze di Palazzo Nanni. La cooperativa di comunità si pone come un progetto che mette in evidenza il bisogno di ottenere una risposta lavorativa, partendo dalle valorizzazioni e conservazioni delle tradizioni, risorse naturali, economiche, sociali e culturali presenti nel territorio. Una grossa realtà per l'Abruzzo, che vede la firma sulla legge istitutiva dell'assessore regionale Marinella Sclocco. Un provvedimento adottato per renderla più operativa sul piano dei finanziamenti agevolati e dei contributi in conto capitale e facilitare la costituzione di uno strumento di rilancio oggi più che mai necessario. Un modo nuovo per fare impresa, ma soprattutto per dare nuova linfa ad un territorio disagiato ai tanti giovani che non hanno un posto di lavoro. Lo evidenzia il Cresa, che sulla provincia dell'Aquila chiede un intervento immediato per risolvere la fase di povertà che sempre più si sta denigliando per la mancanza di posti di lavoro. Un argomento giornalieno che segna anche lo spopolamento della regione ed è per questo che tanti comuni, dopo la sperimentazione del comune di Pizzoferrato, stanno portando avanti il progetto di cooperativa di comunità che sembra stia dando grandissimi risultati. Bisogna rinvertarsi, questo sentiamo spesso e le amministrazioni lo stanno facendo. All'incontro di domenica prossima a Campo di Giove interverranno il sindaco Giovanni Di Mascio, Massimiliano Monetti, presidente Conf Cooperative Abruzzo, Marina Paolucci, responsabile sviluppo con Cooperative Abruzzo, Manuela Cozzi, agronomo.